Grazie Fraite, nel frattempo ci ha raggiunto anche il nostro primo ospite collegato via Skype e con in collegamento Graziano Cennamo, presidente di Puglia Armonica. Grazie Graziano per essere con noi. Buongiorno, grazie, grazie a voi per l'invito. Allora partiamo subito in realtà da Puglia Armonica, da questa realtà che parte dal profondo sud della Puglia, dal Salento e che poi si espande un po' in tutta la regione per avere come mission principale quella di valorizzare le nostre tradizioni, le nostre feste patronali. Spieghiamo un po' ecco brevemente qual è la storia di Puglia Armonica e perché la necessità di un'organizzazione di questo tipo. Sì, Puglia Armonica nasce nel 2015 per appunto valorizzare e dare attenzione ad un mondo che fino a quel momento era un po' sottovalutato, ossia quello delle feste patronali pugliesi, feste patronali che proprio in questi giorni sono arrivate all'attenzione delle istituzioni regionali. Questo non accade a caso, c'è un percorso che dura da anni, appunto dal 2015. L'associazione nasce per dare supporto, per promuovere un mondo unico, particolare, che è quello legato alle tradizioni delle feste patronali, per dare slancio, per dare un significato nuovo, per appunto supportare chi si preoccupa dell'organizzazione delle feste e per anche dare un supporto alle amministrazioni comunali che decidono di investire nelle stesse. Graziano, hai fatto cenno a questo percorso regionale che in realtà riguarda proprio la proposta di una legge regionale. Ne sei stato anche audito nella Commissione regionale competente. Io ho preso appunto nota di come si chiama questa legge, una legge abbastanza lunga, norme in materia di valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio. Noi usciamo in Puglia, ma in generale in tutta Italia, da un periodo molto difficile, soprattutto per la valorizzazione delle tradizioni, delle feste patronali, che è quello che è legato a quella che è stata la pandemia, l'emergenza sanitaria. Quali credi siano oggi, soprattutto rispetto a questo percorso legislativo di questa legge, le priorità che devono essere affrontate e quali sono secondo te le criticità presenti nei territori per far sì che ci sia valorizzazione di queste tradizioni popolari, senza magari poi scadere nella valorizzazione di quella che tradizione non è? Sì, la legge parla proprio di questo, almeno l'obiettivo iniziale è questo. Tra l'altro proprio Puglia Armonica, insieme al Presidente della Commissione Cultura Donato Metallu, si è fatta promotrice appunto di questa legge, dopo quella sulle bande musicali. Allora, faccio un passaggio importante. La legge, prima di parlare di finanziamenti e di contributi, parlerà soprattutto di definizione di festa patronale, intesa ovviamente in senso civile, perché come ben sappiamo la festa patronale si divide in due momenti, quello religioso e quello civile. Quando parliamo di festa patronale, ed è questo il nostro appello alle istituzioni, parliamo proprio di esaltazione delle autenticità e quindi delle tradizioni di un popolo, di una comunità. La legge regionale punta ad essere proprio un'azione di salvaguardia, quindi abbiamo fatto un appello ben preciso, che poi sarà sicuramente ascoltato dalle istituzioni, è quello di definire la festa patronale, perché molto spesso noi notiamo questo nelle comunità, magari ci sono aspetti principali, ci sono parti fondamentali della festa patronale, che purtroppo per esigenze dei comitati vengono sostituite da attrazioni che nulla centrano con la tradizione, quindi mi riferisco soprattutto alla tutela dell'apparato esterno, delle luminarie, dei concerti, molto spesso la banda è sostituita da cover band, da gruppi emergenti, quindi per attirare pubblico. Quindi questo purtroppo non va bene, perché la festa patronale si svolge solo una volta all'anno, durante l'anno, durante il corso dell'anno. Tutto il resto si può tranquillamente organizzare in un altro momento, quindi tutelare la festa significa anche tutelare gli aspetti fondamentali del culto e della tradizione, quindi non snaturare la bellezza delle nostre tradizioni. A proposito di tradizioni, hai parlato anche di luminare, quelle luminare che in realtà sono state scenografie anche di importanti marchi che hanno fatto delle sfilate qui in Puglia, o comunque sono oggi scenografia di importanti eventi che si svolgono poi in tutta Italia, che in qualche modo rappresentano anche l'export di eccellenze pugliesi sul territorio nazionale, e non solo. Tu hai scritto anche un libro, Sentimento Popolare, con sottotitolo appunto Dal Salento al Gargano, il racconto senza tempo delle feste patronali di Puglia, edizioni Il Grifo, lo possiamo anche vedere. Ti chiedo, può essere magari un'occasione per esportare questo know-how di Puglia Armonica, o comunque di concetto di valorizzazione delle feste patronali, anche fuori dalla regione, fuori dall'Italia, come è accaduto ad esempio per le luminarie? Esattamente, noi viviamo un periodo particolare di promozione territoriale che ormai punta non solo alle bellezze dei monumenti, delle nostre chiese, alla bellezza delle nostre spiagge, del mare. Promuovere la Puglia oggi significa soprattutto promuovere le tradizioni, i turisti sono alla continua ricerca più che di patrimonio materiale, di patrimonio immateriale, quindi di emozioni. Quando il turista arriva in Puglia, chiede innanzitutto se ci sono delle festività, delle ricorrenze, delle tradizioni, degli eventi appunto che caratterizzano il nostro territorio, perché ormai il turismo è diventato, si è trasformato, quindi c'è un turismo delle emozioni, un turismo delle tradizioni. Quindi secondo noi, secondo Puglia Armonica, appunto in base anche al lavoro che stiamo facendo negli ultimi anni, la direzione è proprio questa, cercare di esaltare questo patrimonio immateriale, creando consapevolezza, soprattutto tra le nuove generazioni. La festa patronale, le luminarie, le bande musicali, i fuochi d'artificio, prima facevano parte solo del rituale, adesso sono a tutti gli effetti un momento di valorizzazione, di promozione del territorio, quindi viviamo con ardore, con massima intensità tutto quello che la tradizione ci ha consegnato, cercando appunto di non far smarrire questi momenti che generano benessere, economia, quindi non sono legati soltanto alla delozione, ma appunto sono uno dei momenti più importanti per esaltare il nostro territorio. E noi vogliamo ricordare anche i contatti appunto di Puglia Armonica, nel cuore della tradizione, come dite voi, appunto le pagine Facebook, la pagina Instagram, ma soprattutto c'è il vostro sito web, www.pugliaarmonica.it, l'abbiamo prima visto anche qui in diretta, dove ci sono appunto tutti i contatti e tutte le informazioni sulle vostre attività. Graziano, io ti vorrei davvero ringraziare per essere stato qui oggi con noi, allora davvero in bocca al lupo per tutto quello che ormai il mood, possiamo chiamarlo così, feste patronali, che adesso parte fino a quella che sarà tutta la stagione estiva e poi quella autunnale. Grazie ancora. Grazie a voi per l'invito, buona giornata. Grazie, Graziano Cennamo, direttore e presidente di Puglia Armonica, e nel frattempo andiamo qualche secondo in pubblicità, e poi torniamo ancora qui per questa puntata di Giastro Day.